Salve a tutti ragazzi, sto facendo un po' di streaming di Erzo come buona parte dei pomeriggi Quindi se volete venire a dare un'occhiata, il link è come sempre nel titolo ed è anche in descrizione Streamerò un paio di arene penso, quindi appena ci saranno una 10-20 persone inizio a streamare Intanto faccio un po' di quest giornaliere, quindi se volete venire a vedere un po' di arena Fate un salto sul canale di Twitch, il link come sempre è in titolo e descrizione Ciao a tutti, ci vediamo nel live